Un nome che è una sicurezza e non si tratta solo di uno slogan perché Monopoli a Milano è sinonimo di serratura doppia mandata da mezzo secolo. Una famiglia, quella dei Monopoli appunto, giunta da Biscegli all'ombra della Madonnina a metà del secolo scorso e che da subito si è inserita nel commercio delle chiavi. Una tradizione che tra fondatore originario e fratelli poi distaccatisi ciascuno con un proprio negozio ha portato alla presenza oggi di ben quattro diverse attività Monopoli, tutte presenti nella stessa categoria commerciale. Una concorrenza che però rimane tutta in famiglia Praticamente questa attività ha aperto circa 50 anni fa. Mio papà che è il titolare è appunto di origini pugliesi, di Biscegli e anche mio nonno faceva questo lavoro ed è lui che è emigrato qua a Milano Quindi la vostra è una delle famiglie di più antica emigrazione. Quando più o meno siete arrivati a Milano? Faccio conto che penso più o meno verso gli anni 50 Come è composta la famiglia? Allora praticamente la famiglia è composta da... mio papà ha tre fratelli Tutti e tre fanno la nostra attività quindi hanno anche loro a loro volta un negozio come il nostro Perché hanno mandato avanti, tramandato il lavoro del padre Grazie 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 Grazie